Siamo qua con la nostra ospite Raffaella Baritono, docente universale dell'Ateneo di Bologna che oggi è qui per presentarci il libro Femminismo senza frontiere, scritto da Moanti edito da Ombrecorte nell'edizione italiana nel 2012. Fra poco ci sarà questa merenda letteraria dove lei ci presenterà il volume. Prima di questo momento volevo porle questa domanda perché Moanti è diventata una delle voci fondamentali del femminismo postcoloniale e transnazionale? Per quale motivo? Innanzitutto grazie per avermi invitato. Dunque io direi per due motivi fondamentali. Sandra Moanti è una delle voci più autorevoli del femminismo globale e transnazionale, come dicevi. Il primo motivo è che Moanti mette un certo tipo di femminismo occidentale di fronte alle sue stesse contraddizioni, cioè al modo in cui il femminismo occidentale ha rimosso, non ha visto o ha reso invisibili o senza voce le donne del sud e del mondo. Il secondo motivo è legato alle denunce che Moanti fa rispetto al rapporto fra genere e globalizzazione economica, in che modo i processi di globalizzazione economica hanno avuto un impatto sulle donne, sulle donne del nord e del sud del mondo, naturalmente in modi diversi e con effetti diversi, ma anche processi di globalizzazione che hanno di nuovo reso invisibile il lavoro delle donne. Hanno riproposto un tema che è molto importante, che è quello del rapporto tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, tra il lavoro pagato e il cosiddetto lavoro non pagato. Questo è un elemento significativo perché è al cuore dei processi di globalizzazione economica e di quella che è stata definita la divisione internazionale del lavoro.